So che vuoi la carota ma non l'avrai mai Cavalli, 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 cavalli Ok basta Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del mondo di cubi Ragazzi ci sono, guardate questo qua quanto è figo Che cacchio di textura Ok comunque Ho tanti cavalli come pensavo Quindi adesso esplorerò ancora un pochettino questa isola Anche se ho pochissimo cibo Della carne dei zombie Mangio la carne dei zombie Ma ancora meglio ragazzi Guardate che cosa c'è qua vicino Guardate che cosa c'è Tanti bei lupacchiotti Lupacchiotto Venga lupacchiotto Facciamo su tutti i suoi amici Una te, una te, una te, una te, una te Ok Via Opa Dove sei? Vieni qua Vieni qua Devi diventare mio Ok Ho ho ragazzi Tutti i lupi nostri E li utilizzeremo sull'isola vero? Ok Opa Tutti i lupi E Siete glitchati? No Venite Ok ragazzi Abbiamo preso già i lupi Direi che vado un secondo sull'isola E li riponiamo appunto al loro posto E prendiamo del cibo Prendiamo un po' di cose Andiamo a esplorare questa pianura Perché Oh Ocelot Good morning Ocelot Ehm Vattene via Ok andiamo di qua I cani mi seguono vero? Sì Col teletrasporto stile Goku E ragazzi Voglio parlarvi di una cosa Ehm Sono rimasto un pochettino rattristato Da Una cosa che Non conta nulla Adesso voi direte Sei un grabber Sei un grabber No non sono un grabber Non sono un grabber Adesso vi spiegherò tutto Ehm Ragazzi Ho guardato le stime Che mi ha appunto Che fornisce YouTube E YouTube mi ha detto delle cose Che mi hanno lasciato veramente Davvero Mi hanno lasciato veramente Rattristato Ci sono rimasto malissimo ragazzi Non avete idea che di che Di che cosa Di come ci sono rimasto male Allora Ehm I dati Di YouTube Sono in negativo Ehm Ovvero Le iscrizioni Prima avevo un'iscrizione al giorno Anche a due iscrizioni al giorno E adesso siamo Ehm Piuttosto Ci stiamo piuttosto Ehm Rallentando Ci siamo anche rallentati Più che rallentando Ehm Le visualizzazioni Le visualizzazioni sono calate Del 20% Lo so Sembra un uomo di affare Ma Ehm Adesso poi vi spiegherò Perché sto facendo questo discorso Le visualizzazioni sono calate Del 20% Sono calate Del 20% Anche La stima dei minuti guardati Ed è calata Del 40% E questa cosa qua Veramente Quella che mi ha lasciato Proprio Di merda Mi ha lasciato di merda Ehm Sto parlando Del Sti volumi sono altissimi Li abbasserò Dalle cuffie Aspettate I volumi delle cuffie Eccoli qua No aspettate così Sto parlando Sto parlando dei commenti Ragazzi I commenti Sono scesi appunto Del 40% Vuol dire che Il 40% Togliamo il 20% Che non guarda più il video Vabbè Non è proprio così Cioè diciamo che Dei 300 iscritti Che ormai abbiamo raggiunto Dei 300 iscritti Di 300 iscritti 120 Hanno smesso di commentare Così non so perché Eppure Cioè è successo tutto Da quando ho smesso Uno dei cubi Adesso che l'ho ricominciato Non lo guarda più nessuno Non so perché E cioè sinceramente Dele visual non è che Mi rifiuto in garanti Perché tanto la partnership Non ce l'ho Se avessi la partnership Potrei anche pensare A queste cose Ma i commenti Veramente La gente che non commenta più Ragazzi commentate Cosa avete paura Di esprimere le vostre idee Vi sono stati tre commenti Fino adesso E uno Appunto quello di Garba Di Gardo E quello che appunto Stiamo portando avanti In questi episodi E quindi niente ragazzi Cercate di commentare Per favore Non lo so Mi ho lasciato veramente male Sta cosa Anche i mi piace Sono scesi mai Ma quelle lì Non le ho mai richiesti Cioè magari arriverà il giorno Dove vi chiederò Di mettere mi piace Ma Cioè io vi invito Sempre a farlo Ma non vi chiedo mai Proprio Convinto Convinto Di mettere mi piace Comunque adesso Sto ruotando un po' A cavolo Per arrivare dall'isolotto La costruzione che abbiamo fatto Mi è piaciuta Vedo Sono contento E I cani I cani dove sono? L'abbiamo persi Spero di no E I cani Saranno morti in acqua Dove cavolo sono? Oddio Eccoli tutti qua Ok Adesso voglio parlarvi Un attimino di altre cose Non facciamoci parlare Dalla tristezza Comunque Cercate di Almeno chi vuole Di essere più presente Mi farebbe veramente piacere Perché Ci sono rimasto malissimo Dio ragazzi Mi ha lasciato veramente Con un po' di tristezza Sta cosa perché non È brutto È veramente molto brutto Vedere che Gli iscritti Non Cioè ci sono Perché so che ci siete Ma Non mi cagano più Non lo so Quindi Niente ragazzi Spero che Il mio appello Appunto Lo possiate Vedere Capire Possiate E i più furbi di voi Avranno sicuramente capito Piazzo le barche Ovviamente Cioè i più furbi di voi Penso che avranno capito Da soli Che non è per la partnership O per grabbare Come tutti dicono Perché ormai Qualunque cosa fai Ti dicono che sei un grabber Un buone grabber Anche se non hai la partnership Non so come Cioè L'avrà lanciata il look Sta moda Non lo so Comunque ragazzi Qua si dorme Ok Spero che Possiate Tutti insieme Ricominciare E E pensarci magari Se avete un video da darmi Non vergognatevi Ditela Io Tanti commenti li leggo tutti Anche sta cosa che Molti pensano che non leggo i commenti Li leggo tutti Rispondo anche E Semplicemente che alcuni Non vanno neanche Vedere la risposta Quindi è logico Che se non andate a vedere la risposta Non vedete Non vedete niente E Comunque ragazzi Detto questo E Ho visto anche Nello scorso video Che avevo parlato Del Diciamo il fatto Di Sponsorizzare Alcuni di voi Cercare di aiutare E L'idea Questa qua è stata presa Abbastanza bene Per fortuna E Dov'è la crafting table? Non è una crafting table Mi sento Molto molto povero Senza crafting table Sì Grazie Ok Così Così Ok Un cubetto che Ah beh Così però non faccio niente Vero? No Allora Tacchete Tacchete Sto facendo un po' di slab Per chi non l'avesse capito Tacchete Via Via Devo buttarvi Un paio di cose Vero Butterò via Dei semi No della clay Della clay O degli alberelli Alberelli Via un po' di queste Ok E Si sono pieno ancora Non so perché Devo buttarvi Altra roba Buttiamo via Sti occhi di ragno Inutili Ok ragazzi Che cosa voglio fare? Voglio fare un bel ponte Un bel ponte Che porti all'isolotto E rieccoci ragazzi Eccolo qua Il ponte Spero che vi piaccia Molto easy Molto Semplice Il legno bianco Si abbina In un modo spaventoso Con la sabbia Del deserto E Spero che questo Primo bioma Vi piaccia Il secondo L'ho voluto realizzare Tutto off camera Così vediamo Un attimino Se vi piasa Di più off camera Qua ho trovato Una caverna Che lascerò buia E misteriosa Prima c'era un creeper Rischiato di morire E Niente ragazzi Adesso vi faccio vedere Che cosa ho costruito Eccolo là Lo possiamo già intravedere Ho costruito Questa cosa qua Aspettate No Fammi uscire di qua Grazie Allora Eh Ho portato qua Un popozzo di neve Che Provederà a lui A Dove vai Non vorrei mica buttarti in mare Sai meglio di me Che in mare morirai Si lo sai benissimo Allora Mettiamo Dove sei cane Ah sei dietro Un popozzo di neve Allora metteremo i cagli Adesso Ognuno da un ponte Adesso vi faccio vedere Tu vieni qua Qui Venga Venga Si sieda Ok E tu starei qua Ok Quindi avremo un cane Che sta da un ponte E l'altro Che sta appunto Dall'altro Si lo so Un po' banale Come cosa Però Mi piaceva così l'idea Ok Ulla Ha cresciuto un albero A fuoco Proprio In un secondo Pam Cresciuto l'albero Ok Si ho leccato il cane io Praticamente E poi ci credo che Ho un raffreddore Se lecco i cani Allora Qua Nel fortempo Fuori casa mia Ci sono i bambini Che urlano Perché logicamente Non abituandosi Non abitando In campagna Vivendo in città Ci sono i bambini Che urlano ovunque I bambini di oggi urlano Non si vergognano I bambini di oggi Ok Basta Qua abbiamo Appunto L'isola Che si sta Pian piano Riempendo di neve Solo più una questione di tempo E questo è il centro Dell'isola Il centro di tutto Guardate un po' Cosa c'è dentro Una mini fam di zucche Perché quando piove Qua muoiono tutti Infatti prima Mentre stavo Appunto costruendo Sono morti tutti E Tutti Sono due Cioè sono due Il secondo è ancora costruirlo Ah e Poi ne voglio fare uno finto Adesso vi faccio vedere Come si fa a fare un pupazzo Di nevo Di neve Stupido Raffreddore Ok Un pupazzo di neve finto Si fa così Tracchete Tracchete Ok Fate Una cosa Così Piazzate Una Cosa di neve Cioè due Giusto per capire Dove avete piazzata Piazzate un cubo Vero sopra E riempite tutto il resto Ok Non basta Quindi facciamo ancora una volta Così Ok Due Così Tracchete Ok Poi sopra Se noi mettiamo la zucca Sarà una zucca special Si Qua probabilmente Moriranno Molto spesso I nostri cari pupazzi Però pazienza Cioè non è che ci posso far tanto Se muoiono Oddio Quanti cavolo di zombie ci sono Su quell'isola Morite tutti Grazie Mori Grazie Muore Mai detto Quanti cavolo erano Avete visto Tipo Stile L'invasione di Jerry Che ho avuto Nel suo ultimo episodio Non so Chi di voi Segue Jerry Oddio Jerry Di Pishank Quello che Di Pishark Quello che ha fatto La UHC con noi Non lo so Molti di voi Probabilmente non lo conoscono Perché Già le cose Alla fine Ho calcolato Che le cose fatte peggio Sono quelle che mi piacciono di più Ragazzi Perché Ho fatto spesso Dei video abbastanza complicati Che non ha cagato nessuno Assolutamente Ok Qua ci sono dei ragni C'è un po' di tutto Un purpurri Ok Via Opla Scappiamo Attenzione La fuga Ok Direi che per questo è più di tutto Io vado a dormire C'è qualcuno che vuole venire qua Zombie Mongolo Vieni qua Che ti uccide va Ok Quindi io vi saluto Spero che questo video Vi sia piaciuto Ditemi appunto Nei commenti Cosa è successo Come è cambiato Si è migliorato Si è peggiorato Ditemi la vostra Perché non ci sono più commenti Perché non ci sono più visite Perché non c'è Perché sta svalendo tutto Ditemelo voi Quindi ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio come al solito Per aver visto questo video Ho sentito un verso strano E Devo anche soffermi il naso Guardate che strano Spero che Vi abbia fatto ridere La scena scorsa Dell'ultimo video Dove appunto Mi ero soffiato il naso In una Beh poi Andate a me a vedere Non spoiler E quindi Io vi saluto E vi do appuntamento Ragno saluta Ci ha salutato A ver ragno Ok io vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Ditemi Che bioma Volete vedere Nel prossimo video Volete vedere L'end Nether Aspettate Andiamo a vedere Che biomi ci mancano Quali biomi ci mancano Ci manca Ci manca Ci manca Allora Scegliete Scegliete tra Nether Nether dovrà essere Molto grande Come cosa Quindi potrebbe richiedere Anche due episodi And Oppure Giungla Oppure un bioma Che potete inventarvi Voi nei commenti Scrivete nei commenti Vi prego Io vi saluto ragazzi E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao ciao Ciao